Tornati sul canale, in questo video a scopo puramente informativo vi parlerò appunto di una patologia infettiva che prende appunto il nome di febbre gialla. Ti ricordo che tutte le informazioni che pubblico nei miei video hanno uno scopo puramente informativo. Per qualsiasi dubbio rivolgiti sempre dal tuo medico. Ti invito anche ad iscriverti al canale e ad attivare la campanellina delle notifiche in modo tale che tu appunto non ti perda nessun contenuto che io pubblico. La febbre gialla è una malattia infettiva causata dal virus della febbre gialla e si ha appunto dopo il morso di un insetto. Rientra infatti nelle malattie che possono contrarre i viaggiatori recandosi in specifiche aree dove la febbre gialla è endemica ma può colpire ovviamente anche gli abitanti di queste aree endemiche come l'Africa subsahariana e il Sud America. Da un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 1996 queste sono praticamente le zone maggiormente a rischio di febbre gialla. Negli umani la patologia provoca una febbre emorragica che è molto pericolosa perché è fatale. Il virus della febbre gialla è un virus a RNA che appartiene alla famiglia dei flabivirus e si trasmette per il morso di una zanzara. Tutto ciò può avvenire diciamo o in contesti diciamo urbani oppure all'interno delle giungle o anche delle savane. Nel contesto urbano diciamo il serbatoio è rappresentato dall'umano stesso il vettore e la zanzara, nei contesti invece rurali molto spesso il serbatoio può essere un primate non umano e il vettore della patologia è sempre una zanzara. Chiaramente nella trasmissione della patologia il tutto è molto più complesso perché oltre a esserci un ciclo silvestre e un ciclo urbano abbiamo chiaramente anche un ciclo intermedio. Non tutti i casi di febbre gialla tendono a dare dei sintomi, ci sono anche delle forme che non danno sintomi, quindi ci sono delle forme sintomatiche, ma questo non vuol dire che la patologia non sia pericolosa, anzi è molto pericolosa. Per cui la sua prevenzione risulta essere cruciale e di fondamentale importanza. Dal momento in cui la zanzara praticamente punge la patologia ha un periodo di incubazione che può oscillare fra i tre e i sei giorni. Per periodo di incubazione intendiamo appunto quel periodo che intercorre tra l'ingresso del virus all'interno del corpo umano e la manifestazione clinica dei sintomi. Dopo questo periodo di incubazione c'è poi la viremia che raggiunge un livello massimo all'interno del sangue, quindi la concentrazione del virus è elevata e chiaramente c'è anche un periodo di infettività del paziente, cioè che può contagiare altre persone e c'è poi chiaramente anche la malattia conclamata fino alla sua eventuale remissione o guarigione. La diagnosi della patologia ovviamente è di competenza dello specialista di branca che valuterà alcuni sintomi come le emorragie del naso e della bocca e del tratto gastrointestinale, perché appunto d'altronde è una febbre emorragica come abbiamo detto, più chiaramente anche i test di laboratorio ed eventuali colture. Per chiudere il trattamento della patologia è basato sostanzialmente sulla gestione dei sintomi, quindi il riposo, l'idratazione, l'eventuale paracetamolo. È importante evitare chiaramente l'aspirina e i fans perché possono dare maggiori complicanze emorragiche, più l'isolamento del soggetto risulta essere di fondamentale importanza, così come di fondamentale importanza lavorare sull'eventuale prevenzione della patologia attraverso l'utilizzo di abiti coprenti, di repellenti e di eventuali vaccinazioni. Ovviamente quando si deve eseguire un viaggio in queste aree a rischio, la medicina dei viaggi può consigliare al viaggiatore se eseguire o no il vaccino per la febbre gialla, quindi rivolgetevi sempre poi alle autorità competenti in tal caso. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, iscriviti al canale e condividi questo video con altri utenti. Ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video.